Lala, sei pregata di pulire quello schifo che hai fatto sul tavolo? Ah sì? Perché se non volessi farlo, cosa faresti, scusami? Cosa farei? Come ti permetti? Ha ragione la mamma, devi pulire e devi farlo anche in fretta, perché tu in questa casa non sei altro che un inutile squallido scarafaggio che vivi sulle spalle dei tuoi genitori. Tu chiudi il becco, hai capito? Brutta, stupida, viziata e deficiente come tua mamma. Ma come cazzo ti permetti, eh? Cos'è? Meravigliata? Eh? Senza parole? Ora tocca a te e poi dopo è il turno della signora. Aiuto! Mamma! E ora sai che farò? Infilerò su per il c***o questa ciabatta a tua mamma. Nonché in mia mamma. Laura? 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 Ma che cavolo? Laura? Non ti faccio ridere. Laura? Laura? Sai che volevi farmi, eh? Dopo aver massacrato di botte tua sorella? Infilarmi una ciabatta sopra il c***o? Mi avrò fatto tanto male. Oh tesoro mio, questo per te rimarrà solo ed esclusivamente un sogno. E la prossima volta, se mai ce ne sarà un'altra, ti consiglio di sognare in silenzio. Hai capito? Mamma, m'era un sogno. Lo so, benvenuta nella realtà. No, no, no. Meglio sognare d'occhi aperti.